A casa tua c'è un folletto? Allora c'è anche BR Store! Ordina adesso, il domani è tutto a casa tua! Perché non scegliere di risparmiare? BR Store, siamo i migliori! Bene, affezionati BR Store e innamorati del folletto, oggi vediamo come sostituire il sottospazzola ad un folletto 135-136. Cambiarlo è semplicissimo. Per prima cosa ci mettiamo comodi, quindi togliamo la spazzola, l'intera scopa dal folletto. Quindi fermiamo il tasto, tiriamo la spazzola e siamo pronti. Proseguiamo a smontare anche il sottoscopa. Allora, come si fa? Tiriamo così di lato e con un giravite spaccato spacciamo un po' di leva. Fatto questo, rimuoviamo il sottospazzola, prendiamo quello nuovo, lo sostituiremo con la versione originale. E siamo pronti anche a rimontarlo. Per rimontarlo basta seguire prima i tre perni qui frontali. Quindi incastriamo prima, li andiamo ad alloggiare tutti e tre e poi premiamo sulla parte posteriore fino allo scatto. Fatto questo, abbiamo sostituito il sottospazzola ad un folletto 135. Perché si sostituisce? Normalmente perché si usurano? Usurandosi innanzitutto si inizia ad aggroviare qualsiasi cosa e quindi la polvere, capelli eccetera non vengono più aspirati ma vengono semplicemente trasportati per casa. E in più abbassandosi ha un effetto tipo ventosa che riduce comunque l'aspirazione del vostro folletto e l'efficacia di aspirazione della polvere stessa sul pavimento. Quindi se avete vite di fuga inizierà ad essere un problema aspirare anche in quelle parti. Ora rimontiamo anche il folletto e fatto questo avete sostituito il sottospazzolo con una versione originale ad un folletto 135 o 136. Potete trovarlo sul nostro store www.brstore.com con il codice K0357. www.brstore.com